Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Fidelisandria di Mister Ginestra, che non replica la buona prestazione offerta nel derby di Coppa dello scorso mercoledì contro il Foggia, ed esce senza punti dal confronto interno con l'ambizioso Palermo. Aldegli Ulivi finisce 0-2 a favore dei Rosa Nero, che si issano al secondo posto in classifica a meno 4 dal Bari. Restano invece fermi a quota 9 in ultima posizione i bianco-azzurri, ancora privi della necessaria continuità. L'avvio di partita in realtà è tutto di marca pugliese, al minuto 3 di piazza sul piede lasciante il vantaggio ma pescato in posizione regolare, alza troppo il mirino dall'interno dell'area. Alla prima occasione passano i Rosa Nero, al minuto 27 un calcio piazzato viene sfruttato alla perfezione da Brunori, che stoppa bene il pallone, si gira in uno strettissimo fazzoletto di campo e con una grande giocata in filadini. La reazione dei padroni di casa non arriva e così i Rosa Nero sfiorano il bis prima con Fella, che al minuto 33 ci prova senza successo dal limite dell'area, e poi con Almici che sei minuti dopo in diagonale spedisce al lato di qualche metro. Poco male per il terzino destro ospite, che trova il riscatto personale al minuto 63. Nella prima emozione del secondo tempo, Brunori guida la ripartenza e allarga a sinistra, Valente la mette al centro con i giri giusti, il numero 29 in sacca da due passi, e la rete del definitivo Zeno 2 è quello che di fatto spezza le gambe ai federiciani, che da quel momento, a parte un tentativo fuori misura di Di Piazza con il piattone dal limite al minuto 75, escono mentalmente dal match, finisce dunque così dopo un ultimo sessulto creato da Soleri in tapina al minuto 78, fischi del Degli Ulivi per la truppa di Ginestra, chiamata a riscatto nel prossimo weekend sul campo della Paganese.